Signore e signori, abbiamo un cagnolino che impazzisce per la macchinetta del caffè. Cos'è Shasha? Cos'è? Ti piace questo? Stai impazzendo. Non è per te Shasha, non è per te. È per la mamma, per fare il caffè. Non è per te, è per me, per farmi il caffè. Eccolo il caffè, questo è per fare il caffè. Poverino, non è per te, amore. Non è per te Shasha, non mi spiace. Un Giacalasse, cazzo, mi senti già sopra. Cos'è? Perché fa il caffè americano. Cos'è? Ma di che? Di che? Non è tuo. È la macchina del caffè. Non è tuo. È perché simbolizza tutto. Di chi sei? Ma di che? Di che è la macchina del caffè? Non è tuo. Non puoi giocare. Ti astrella, ti astrella. Che ci c'è? Ciao. New friend, Shasha. No, non fare così. Ok. Terriere? Yes. Ah, Maltese. Ciao, baby. Ciao, ciao, bello. Ciao. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao, bello. Ciao, bello.